Ha un costume molto carino, signorina. Ha il buio e fosforescente. Signora Wall, ci sono dei limiti che io non supero mai. I limiti non mi hanno mai fermato, John. Sono signorina e io sono Vivian. Vivian, ok, signorina Vivian. Signorina Vivian, signorina Vivian. Lei è una professionista, cioè, forse non proprio, ma è una dirigente. Dobbiamo mantenere un rapporto professionale. Posso? Le prendo un bicchiere. Adoro il fuoco.